Diamoci una mano alla nuova campagna informativa della protezione civile lanciata dal Comune dell'Aquila, realizzata dall'Ufficio Protezione Civile per diffondere sempre più il piano di emergenza e corretti comportamenti da tenere in caso di calamità naturali. Sapere insomma cosa fare e cosa non fare, dei video mirati di qualche minuto, 8 clip in totale, ma c'è anche l'app già esistente, Comunicare per proteggere. Il piano di protezione civile è consultabile sul sito del Comune, anzi l'assessore Fabrizio Taranta invita tutti a leggerlo. Un progetto di diffusione delle buone pratiche di protezione civile, l'aspetto informativo e formativo è essenziale e lo stiamo portando avanti e percorrendo da tempo attraverso progetti nelle scuole, progetti di diffusione appunto delle buone pratiche di protezione civile. Gli ultimi due anni siamo stati bloccati per quelle questioni legate al Covid, da quest'anno stiamo riprendendo, rinizieremo con gli incontri nelle scuole e abbiamo realizzato queste 8 clip, un modo anche un po' scherzoso, meno informale di comunicazione con i nostri cittadini è importante però che tutti sappiano che i primi soccorritori di noi stessi nel caso di qualsiasi evento siamo effettivamente noi stessi, quindi avere dei piccoli accorgimenti nella quotidianità e sapere poi come comportarsi, come reagire ad un evento importante aiuta sicuramente a gestire la fase dei soccorsi che è fondamentale per poi mettere in piedi tutta la macchina organizzativa.